Abbiamo visto che nel caso di strato limite possiamo immaginare la seguente situazione. Abbiamo una lastra, questa lastra è investita da una corrente uniforme la cui velocità vale U e a causa della condizione di aderenza tra fluido e parete si forma uno strato di fluido. Se questa Y è la direzione perpendicolare alla parete avremo uno strato di fluido che progressivamente si raccorda con la soluzione indisturbata. Quindi qua abbiamo fatto una soluzione indisturbata che solo a scopo grafico ho rappresentato con 5 quadretti e quindi immaginiamo che prima di arrivare a contatto con la lastra tutti i vettori di velocità siano lunghi 5 quadretti mentre qui vediamo che i vettori di velocità sono lunghi 5 quadretti solo a una certa distanza dalla lastra. Mano a mano che ci si avvicina il modulo della velocità diminuisce fino ad arrivare a zero a parete. Allora, finora io sono stato piuttosto evasivo sul concetto di spessore di strato limite perché una delle cose che ho fatto è stato dire in qualche punto ad una certa distanza dalla lastra la velocità diventa quella indisturbata e quindi diremo che quella distanza sarà lo spessore di strato limite. Però non abbiamo mai finora quantificato questa quantità. Abbiamo fatto un timido tentativo dicendo beh immaginiamo che quando la velocità sia il 99% della velocità indisturbata allora quello per noi sarà lo spessore di strato limite. Però il 99% non è in alcun motivo un numero più dignitoso rispetto ad un altro quindi cerchiamo di capire se c'è una definizione più oggettiva dello spessore di strato limite. Allora, qui ho indicato con delta funzione di x appunto questo spessore perché l'ho fatto? Perché ricordiamo che se x è la coordinata parallela alla parete questo spessore dipende dalla distanza del bordo d'attacco della lastra quindi qui tende a zero e man mano che ci allontaniamo dal bordo d'attacco della lastra diventa sempre più grande. Allora, uno dei modi che abbiamo per definire lo spessore di strato limite è notare la seguente cosa. Allora, ricorderemo che se non ci fosse la condizione di aderenza la velocità risulterebbe indisturbata fino a parete e quindi il vettore velocità sarebbe sempre quello all'infinito che adesso sto rappresentando con questi vettori verdi. Ora, siccome evidentemente la velocità invece si deve raccordare con la condizione al contorno avremo che il vettore velocità scusate, la componente della velocità parallela alla lastra la indicheremo come u piccolo sarà minore o al più uguale della u che è la velocità indisturbata. La u piccolo sarebbe questo profilo di velocità che varia con la distanza y dalla parete se volete questa è una u di y Allora, risultando la u minore o al più uguale rispetto alla u grande cioè alla velocità indisturbata sarà anche vero che se io faccio un integrale tra 0 e una certa distanza h di u in dy questo dovrà essere necessariamente minore o al più uguale dell'integrale tra 0 ed h di u grande in dy C'è un teorema che ci assicura che questa cosa è vero Allora confrontando queste due velocità su un intervallo di integrazione non c'è speranza però quello a cui possiamo pensare è la seguente cosa noi riusciamo a ridurre questo intervallo di integrazione cioè invece di mandarlo da 0 ad h lo riduciamo qui sotto in modo tale che questi due integrali diventino uguali cioè immaginiamo di voler cercare una distanza dalla parete che chiameremo delta asterisco tale che l'integrale tra delta asterisco ed h di u grande in dy risulti non maggiore siccome adesso abbiamo ridotto l'intervallo di integrazione dobbiamo trovare questo delta asterisco in modo tale che questo risulti uguale all'integrale tra 0 ed h di u in dy ora posta così sembra una domanda diciamo squisitamente matematica in realtà notiamo che che non è esattamente così vediamo un po' che cosa stiamo chiedendo dy è un intervallo infinitesimo nella direzione y immaginiamo per esempio questo intervallo che rappresento in rosso allora u piccolo dy possiamo immaginarlo siccome la u piccolo è questo profilo di velocità che aderisce alla parete possiamo immaginare che u piccolo scusate dy sia rappresentativo dell'area di questo rettangolino infinitesimo viceversa u grande dy sarà rappresentativo dell'area di questo rettangolo questa volta propriamente detto che possiamo campire con il verde allora immaginando b una direzione perpendicolare al piano del foglio e essendo la densità del fluido costante quindi la potremmo semplificare a destra e a sinistra u di y non è altro che la portata in massa infinitesima ripeto a meno della densità e a meno di una dimensione perpendicolare al piano del foglio che comunque sarà uguale per entrambi quindi u di y sarà la portata infinitesima attraverso la sezione lo spessore infinitesimo di y dato dal profilo di velocità reale mentre u grande di y sarà l'analoga portata in massa ma stavolta prodotta dal profilo ideale quindi quello in assenza di viscosità allora a questo punto possiamo immaginare che l'integrale tra delta star e h sia tutta la massa che transita tra la distanza delta star e h a causa del profilo ideale mentre l'integrale tra 0 e h di u piccolo sarà la portata in massa che transita a causa del profilo reale ora siccome delta star è maggiore di 0 noi stiamo immaginando che ci sia una certa distanza dalla parete ora la disegno così immaginandola casualmente io sto immaginando che ci sia questa distanza che chiamiamo delta star e questa sarà tale che il profilo di velocità ideale cioè quello che scende giù dritto senza curvare tra delta star e una distanza h che per il momento non abbiamo specificato ci garantisca una portata in massa uguale alla portata in massa invece tra 0 e la stessa altezza h del profilo reale ora non dobbiamo dimenticare che purché ci troviamo al di fuori dello strato limite u piccole e u grande coincidono perché fuori dello strato limite il profilo di velocità reale e quello ideale sono la stessa cosa cioè siamo così lontani dalla parete che l'effetto della viscosità non è più importante quindi a patto di prendere questo h molto maggiore di delta e lo scrivo qua lo scriviamo qua sopra con h molto maggiore rispetto a delta noi in realtà stiamo valutando il profilo di massa il flusso di massa in un caso tra delta star e l'infinito e nell'altro caso tra la parete e l'infinito cioè quando h è molto più grande di delta se andiamo all'infinito se ci fermiamo ad un certo punto non fa differenza ad un certo punto finito non fa differenza ora ricordiamo sempre che stiamo girando in tondo al problema perché abbiamo sollevato questa questione perché non sappiamo definire delta e adesso diciamo di affidarci ad una quantità h molto più grande di delta non sapendo quanto è delta però per il momento visto che delta abbiamo visto che era la lunghezza nella dimensione orizzontale diviso la radice quadrata del numero di rengels con qualche coefficiente incognito beh se questo delta approssimato ci viene qualche millimetro possiamo immaginare che h sia qualche decina di centimetri o qualche metro e quindi siamo sicuramente al di fuori vedremo tra un po' che decidere esattamente quanto vale h risulta essere del tutto irrilevante allora con questa posizione possiamo continuare e risolvere questa integrale perché a primo membro è banale siccome u è una costante questo integrale non sarà altro che u grande h meno u grande delta star e questo dovrà essere uguale all'integrale tra 0 e h di u piccolo in dy bene allora adesso quello che possiamo fare è risolvere questa relazione esplicitando delta star e quindi troviamo che delta star sarà uguale anzi facciamo un passaggio in più u per delta star lo portiamo al secondo membro e questo dovrà essere uguale a u per h meno l'integrale tra 0 e h di u in dy bene ora u per h lo possiamo scrivere come integrale tra 0 e h di u in dy e quindi questo lo scriviamo come integrale tra 0 e h di u grande in dy meno integrale tra 0 ed h di u piccolo in dy e quindi adesso possiamo mettere tutto dentro un unico integrale e questo sarà l'integrale tra 0 ed h di u grande meno u piccolo in dy quindi quello che possiamo fare è dividere primo e ultimo membro per u per u grande e quindi troviamo per delta star questa espressione delta star uguale integrale tra 0 ed h di u grande diviso u grande cioè 1 meno u piccolo diviso u grande in dy adesso notiamo una cosa noi ancora non sappiamo quanto deve valere questo h però quello che sappiamo è che deve essere molto più grande di delta tuttavia sappiamo anche che quando ci troviamo fuori dello strato limite il profilo di velocità reale e quelli ideali coincidono e quindi vuol dire che fuori dello strato limite u piccolo e u grande sono la stessa cosa cioè il rapporto vale 1 e qui abbiamo 1 meno 1 cioè fuori dello strato limite questo integrale ha una funzione integranda che è nulla quindi scrivere h più grande di delta o scrivere infinito è esattamente la stessa cosa allora a questo punto lo scrivo qui abbiamo trovato un'espressione delta asterisco uguale all'integrale tra 0 e l'infinito di 1 meno u piccolo su grande in dy l'abbiamo trovato un'espressione che non dipende più da un nostro giudizio personale cioè quando io avevo detto che delta era il 99 la distanza dalla parete a cui la velocità reale era il 99% della velocità indisturbata beh in qualche modo io dovevo inserire un parametro che avevo scelto io che era questo 99% viceversa con una definizione del genere noi non abbiamo alcuna possibilità di intervento viene un numero che dipende soltanto da come è fatto il profilo di velocità u piccolo e quindi abbiamo dato una prima definizione oggettiva non di spessore di strato limite ma di una grandezza surrogata che prende il nome di spessore di spostamento magari scriviamolo qui si chiama spessore di spostamento perché prende questo nome così bizzarro perché di fatto se adesso riflettiamo a ciò che abbiamo derivato matematicamente questa distanza risponde a questa domanda di quanto devo spostarmi rispetto alla parete cioè da zero di quanto devo salire fino a delta star per far sì che la portata in massa del flusso ideale tra delta star e l'infinito sia uguale alla portata del flusso reale tra la parete e l'infinito cioè se ricordate quando abbiamo iniziato a parlare di strato limite all'inizio la tentazione di chi se ne occupava quindi dei matematici dei fisici e degli ingegneri era quella di sostituire lo spessore di strato limite con un corpo un po' più gonfio tra virgolette e adesso un po' più gonfio dipende da che cosa vogliamo assicurare allora se vogliamo assicurare che la portata in massa intorno al corpo sia uguale a quella in presenza di strato limite ma con un fluido ideale allora è sufficiente spostare il contorno di questo corpo di una distanza delta star ovunque in altre parole se volete da un punto di vista matematico questo parametro delta star risponde a questa domanda a quale distanza quest'area che sto campendo è uguale a quest'altra area che ho appena tratteggiato esisterà evidentemente soltanto una distanza perché l'area in basso sarà una funzione crescente di delta star l'area in alto è una funzione decrescente quindi ci sarà un delta star di equilibrio dove queste due aree sono uguali ecco questa distanza di equilibrio è proprio lo spessore di spostamento ora non rifaccio tutta la derivazione ma è facile immaginare che siccome il flusso è più lento vicino alla parete rispetto al caso ideale non solo passa meno massa ma ci sarà anche un difetto di quantità di moto cioè tra zero e una distanza h qualunque fluisce più quantità di moto nel caso di flusso ideale che nel caso di flusso reale e questo avviene per due motivi innanzitutto perché passa meno massa e questo l'abbiamo appena visto e poi perché vicino alla parete la massa che passa è più lenta allora potremmo rispondere a questa domanda a quale distanza dalla parete moltiplicando questa distanza per u quadro io riesco a compensare il difetto di quantità di moto causato dallo strato limite questa distanza normalmente viene indicata con teta e si chiama spessore di quantità di moto e rifacendo i passaggi si ha questa definizione integrale tra zero e l'infinito di u piccolo su u grande che moltiplica uno meno u piccolo su u grande in di y questo si chiama spessore di quantità di moto quantità di moto ed è un'altra lunghezza caratteristica del dello strato limite adesso la volta scorsa abbiamo visto che l'equazione di l'equazione di Stokes scritta all'interno dello strato limite si riducono ad una forma relativamente più semplice che prende il nome di equazione di Prantel ora l'equazione di Prantel dà alcune informazioni molto importanti la prima anche se è una delle meno spiegate dal punto di vista teorico è che dp in dy all'interno dello strato limite è circa uguale a 1 su reynolds cioè tende a 0 che cosa vuol dire che all'interno dello strato limite la pressione non varia lungo lo spessore cioè se questa è una determinata x x segnato fino a quando io mi trovo dentro lo strato limite che abbiamo immaginato essere fino a qui beh la pressione qua dentro non cambia valore perché la derivata rispetta y e y è la coordinata perpendicolare alla parete è di ordine 1 su reynolds e siccome vi ricorderete che lo strato limite la teoria dello strato limite vale quando il numero di reynolds è molto più grande di 1 cioè bisogna avere grandi numeri di reynolds vuol dire che questa derivata tende a 0 l'altra cosa che avevamo imparato dalle equazioni di prant scalandole opportunamente adesso non ripetiamo tutta la scalatura è che soltanto uno dei termini viscosi sopravvive e quindi le equazioni possiamo scriverle per esempio in forma dimensionale quindi non scalate alla prant hanno questa forma u d u in dx più v d u in dy uguale a meno 1 su rho derivata di p fatta rispetto a x più mu diviso rho derivata seconda di u fatta rispetto ad y quadro l'ipotesi è flusso bidimensionale flusso stazionario ma come ho ripetuto più volte tutte le conclusioni a cui si giunge valgono anche se il flusso è non stazionario se il flusso è tridimensionale e così via la terza equazione era l'equazione di conservazione della massa quindi d u in dx più d v in dy uguale a 0 ora questo set di equazioni in realtà ha soltanto due incognite perché normalmente per un flusso a densità costante le incognite sarebbero la velocità e la pressione questo è un flusso bidimensionale quindi ci vorrebbe da pensare che le incognite sono la u la v e la p ma in realtà il fatto che la pressione non varia all'interno dello strato limite ci dice che la pressione nello strato limite non è una variabile dinamica che lo strato limite determina autonomamente ma in realtà è imposta dall'esterno cioè siccome la pressione non varia in y per ogni x la pressione che ho all'interno dello strato limite dipende da ciò che ho al bordo dello strato limite se immaginiamo che questo quasi è il bordo dello strato limite e qui abbiamo il flusso esterno la pressione che ho qui non dipende da ciò che succede dentro ma da ciò che succede fuori questo è il motivo per cui ho scritto la pressione diciamo con questa derivata totale perché rispetto a y non dipende e dipenderà al più da x ma dipende dalla x attraverso il flusso esterno cioè se volete questa p la potremmo addirittura chiamare p esterna per distinguere da un'eventuale pressione che lo strato limite potrebbe ma non fa perché c'è questa condizione determinare autonomamente allora a questo punto guardiamo un attimo una cosa in una ipotesi di un eventuale flusso parallelo alla lastra fuori dello strato limite i termini viscosi non contano quindi se io scrivessi l'equazione di bilancio della quantità di moto nel caso di flusso stazionario non ci sarebbe de wind t poi ci sarebbe una u de wind x e questo termine ci sarebbe poi ci sarebbe una v de wind y ma se il flusso è parallelo all'esterno non c'è la v ci sarebbe il termine di pressione e poi non ci sono i termini viscosi perché ricordiamoci che siamo fuori dello strato limite e fuori dello strato limite i termini viscosi non contano quindi questo che cosa ci dice lo posso scrivere qua fuori dello strato limite fuori dello strato limite l'equazione di bilancio della quantità di moto nella direzione x si riduce a questa cosa u du su dx uguale a meno 1 su ρ derivata della pressione esterna fatta rispetto a x e quindi vuol dire che questo termine di fatto lo posso sostituire con quest'altro termine e qui vedete la u è la u grande non è la u piccola perché questo termine dipende unicamente da ciò che accade all'esterno dello strato limite quindi considerando che questo termine di pressione può essere scritto in questo modo e ricordando che l'equazione di di prantel per il flusso sull'astre piana è parallele di fatto ha soltanto due variabili la u e la v noi possiamo scrivere la componente x dell'equazione della quantità di moto la scrivo qui la possiamo scrivere in questo modo u derivata di u rispetto a x più v derivata di u rispetto a y uguale ora invece di mettere meno 1 su rho derivata della pressione esterna rispetto a x ci mettiamo questo termine esterno u derivata di u rispetto ad x e poi abbiamo il termine viscoso ora ricordiamoci che mu diviso rho è uguale a ni viscosità cinematica quindi per semplificare la notazione scriviamo mi e poi abbiamo l'altra equazione che è l'equazione di conservazione della massa quindi du su dx più dv su dy uguale a 0 ora questo è il set di equazioni che vale nell'ipotesi di strato limite per un flusso su una lastra piana e il flusso è parallelo alla lastra stessa adesso ci chiediamo è possibile risolvere questa equazione diciamo che in generale sebbene questa equazione sia più semplice rispetto all'equazione di navi e stokes non non è possibile trovare una soluzione analitica però facendo delle ulteriori semplificazioni e utilizzando qualche diciamo approssimazione per le funzioni è possibile comunque arrivare ad una forma dell'equazione molto istruttiva che è possibile risolvere adesso cercherò piano piano di fare alcuni passaggi visto che i passaggi li faccio io come ne concentrarsi sul significato fisico delle delle assunzioni che si fanno allora la prima cosa che conviene fare è cercare di introdurre una o più variabili intermedie che ci permettano di semplificare questo set di equazioni la prima di queste variabili prende il nome di funzione di corrente la funzione di corrente che cos'è? è una funzione scalare tale che le sue derivate possono essere messe in relazione con le componenti della velocità ora è detta in un modo un po' semplice però cerco di farvelo vedere come un esempio allora ricordiamoci che qui stiamo cercando un flusso che ha due componenti di velocità e queste due componenti di velocità dipendono da due coordinate spaziali non dimentichiamo che lo spessore di strato limite evolve lungo la x e quindi le componenti della velocità dipendono sia dalla y sia dalla x allora ricordando che la u dipende sia dalla x che dalla y e anche la v dipende sia dalla x che dalla y vediamo che cosa succede se introduciamo una quantità che chiamiamo psi funzione di corrente questa psi è una funzione sia della x che della y e la definiamo nel seguente modo abbiamo la funzione psi tale che dpsi su dy sia uguale alla velocità u e meno dpsi su dx sia uguale ad una componente di velocità v qual è la prima conseguenza di questa posizione se noi adesso prendiamo le definizioni di u e di v e le mettiamo nell'equazione di conservazione della massa abbiamo che dv in dx diventa derivata seconda di psi fatta rispetto a x e y mentre dv in dy diventa meno la derivata seconda di psi fatta rispetto a y x quindi se vale la regola di Schwarz secondo cui si possono invertire l'ordine di derivazioni quindi sappiamo che questo avviene con una certa condizione sulle funzioni abbiamo che un campo di velocità derivato dalla funzione di corrente soddisfa automaticamente la conservazione della massa il che vuol dire che se noi adesso scriviamo l'equazione di conservazione della scusate il bilancio di quantità di moto in termini di psi la seconda equazione è automaticamente soddisfatta e quindi riusciamo ad avere invece che due equazioni in due incognite riusciamo ad avere una sola equazione in una sola incognita e questo diciamo ci ci dà comunque l'opportunità di semplificare le equazioni di semplificare la soluzione più che altro ora però abbiamo soltanto detto parte delle ipotesi che ci servono perché adesso invece dobbiamo scendere un po' più nel dettaglio e dobbiamo cercare di capire se è possibile fare un'operazione abbastanza ardita che è la ricerca di una soluzione simile allora vediamo un po' che cosa ho in mente abbiamo detto che il profilo di strato limite è un profilo che cambia allontanandoci dalla x cioè più ci spostiamo a valle rispetto al bordo d'attacco e più lo spessore aumenta allora se questo è quello che succede ad una certa x per esempio questa qui la possiamo chiamare x tilde se io mi metto ad una certa distanza che chiamiamo x cappello io avrò un altro profilo di velocità e adesso prima lo disegno completamente a caso e poi lo commentiamo adesso questo profilo di velocità io posso averlo diverso per due motivi innanzitutto perché è cambiato lo spessore di strato limite qui in x tilde lo spessore di strato limite è questo in x cappello lo spessore di strato limite sarà cresciuto se mi sono spostato a valle ora in generale in linea di principio abbiamo anche un altro fattore guardate qui questo termine che ha sostituito il gradiente di pressione qui abbiamo u derivata di u rispetto a x cioè in generale noi possiamo anche avere che la velocità esterna non è costante rispetto alla x ma varia man mano che ci si allontana dal bordo d'attacco per esempio per esempio in un canale tra lastre piane e parallele siccome lo spessore di strato limite cresce la velocità esterna deve accelerare un po' per mantenere la stessa portata perché aumenta lo spessore di fluido attraverso cui la velocità è rallentata quindi abbiamo adesso provo a farlo qui come uno schema se qua ci mettiamo la velocità e qua ci mettiamo la y io potrei avere che un primo profilo per esempio è fatto così mentre un secondo profilo può essere fatto così quindi questo potrebbe essere lo spessore delta di x tilde mentre questo potrebbe essere lo spessore delta di x cappello come altezza viceversa questa potrebbe essere la velocità esterna alla coordinata x tilde mentre questa potrebbe essere la velocità esterna alla coordinata x cappello quindi in generale avremo che la velocità dipende sia da x che da y perché cambia lo spessore di strato limite e cambia la velocità esterna adesso qui c'è la questione più spinosa allora se io ho in generale una velocità che dipende dalla x e dalla y io mi pongo questa domanda io riesco a prendere questa velocità e scalare la quantità y in qualche modo e poi scalare tutta la funzione in qualche modo così da ottenere una funzione che non dipende più dalle due variabili separatamente cioè l'idea è questa io riesco a prendere questa funzione e trasformarla in un'altra che è la seguente u di x e poi invece di y ci mettiamo y diviso una certa h che dipende da x e poi la funzione stessa la devo dividere per un'altra funzione che posso chiamare g che dipende da x io riesco a fare questa cosa vediamo un po' che cosa significherebbe significherebbe creare un altro sistema di coordinate in cui in questa direzione non c'è la y ma c'è y diviso h di x e in quest'altra direzione cioè sull'asse delle ascisse non c'è la u ma c'è la u diviso per g di x e la domanda è io riesco a trovare h di x e g di x in modo tale che queste due curve diventino una sola quindi insomma è una domanda non da poco adesso che potremmo ragionare un minimo con l'intuizione guardate noi sappiamo che da delta di x in poi la velocità è costante quindi per il primo profilo da questo delta in poi la velocità sarà costante pari al valore indisturbato e per il secondo profilo dal suo altro delta di x in poi la velocità sarà costante quindi già intuisco che se al posto di questo h di x ci metto il delta lo spessore di strato limite quello che avrò quello che avrò è che quando questa variabile adimensionale diventa 1 cioè quando la y ha raggiunto lo spessore di strato limite da lì in poi posso richiedere che la velocità sia costante per quanto riguarda la scalatura in x se voglio avere una speranza che queste due curve coincidano quantomeno devo richiedere che fuori dello strato limite entrambe tendano a 1 il che vuol dire che la funzione di g di x deve essere la velocità nella direzione della corrente quindi di fatto 0,0 è un punto fisso perché ha la condizione al contorno io posso fare in modo prendendo g di x come velocità esterna e h di x come spessore di strato limite io posso fare in modo che ci sia un altro punto fisso che sarà 1,1 cioè quando y vale delta u piccolo vale u grande quindi io sono sicuro che da qui in poi il profilo di velocità andrà su dritto verticale ora però niente mi garantisce che le due curve in realtà io riesco a farle coincidere in una sola semplicemente facendo questa scalatura ora io questa cosa ve la risparmio perché è una procedura abbastanza lunga e piena di passaggi matematici ma si può dimostrare che questa cosa è possibile prendendo al posto di g piccolo la u funzione di x e al posto di h di x lo spessore di strato limite purché sia verificata una condizione la velocità esterna allo strato limite deve variare secondo una legge di potenza cioè si può dimostrare che purché la u di x abbia questa forma questa qui è la velocità u grande quella esterna sia fatta così a per x alla m dove m è un esponente qualunque e da grande è un coefficiente numerico qualunque cioè se è vera questa possibilità questa relazione allora io riesco sicuramente a fare una cosa del genere e a rendere questa funzione unica ora questo ci dà un ampio margine di manovra ma non qualunque margine di manovra se io mettessi per esempio un canale in cui la parete superiore oscilla sinusoidalmente beh non verrebbe mai una cosa del genere perché avrei una velocità esterna dove il canale si restringe e accelera dove si riallarga e rallenta e quindi non potrei mai scrivere il profilo di velocità in termini di funzioni simili però se crediamo che questa sia una delle possibilità allora tutto adesso diventa molto più semplice perché a questo punto diamo per scontata questa ipotesi allora a questo punto abbiamo che h di x in realtà sarà proprio la delta di x e quindi sarà uguale alla radice di x per la viscosità cinematica ni diviso u ricordiamo che la viscosità cinematica ni è mu diviso ro cioè esattamente questo fattore a questo punto quello che si fa si definisce quindi la y su delta sarà una funzione che dipende lo scriviamo qua y su delta di x sarà una funzione che dipende sia dalla x che dalla y e quindi la chiameremo eta e questa eta dipende sia da x che da y teniamolo a mente e questa sarà uguale a y per la radice quadrata di u diviso ni per x questa è una prima questione adesso e questa qua è l'ipotesi più delicata di tutte quante noi dobbiamo immaginare che la funzione di corrente psi possa essere espressa dal prodotto di due variabili di due funzioni quindi abbiamo che psi di x y noi la dobbiamo poter scrivere come la radice quadrata di ni per u grande per x per una certa funzione f della variabile eta ora noi teoricamente avremmo anche potuto scriverla così e basta tanto eta dipende in ogni caso sia da x che da y e noi la f non l'abbiamo mai determinata tra un istante facendo qualche passaggio sarà chiaro perché ci fa proprio comodo che sia scritta in questo modo adesso che cosa dobbiamo fare con un po' di pazienza dobbiamo ricordare che u e v sono le derivate rispetto a x scusate rispetto a y e meno derivata rispetto a x della funzione di corrente che adesso ha questa espressione e poi dobbiamo prendere queste definizioni di velocità e le dobbiamo mettere dentro questa forma dell'equazione di bilancio della quantità di moto vi ricordo che la conservazione della massa non serve in quanto esprimendo le velocità come derivata della funzione di corrente la conservazione della massa è automaticamente soddisfatta allora cominciamo a derivarci qualche termine con un po' di pazienza e ce lo mettiamo da parte facciamo attenzione a una cosa guardate qui abbiamo questo termine che dipende da x dopodiché abbiamo la eta che dipende sia dalla x che dalla y questo dobbiamo ricordarcelo perché quando facciamo le derivate ci sono alcune dipendenze esplicite ed altre nascoste quindi cominciamo cominciamo dalla u la u è la derivata della funzione y rispetto alla x vedete la abbiamo scusate rispetto alla y qui è fondamentale non commettere errori altrimenti non ci ritroviamo quindi è questa definizione e quindi come la facciamo dobbiamo fare la derivata rispetto alla y vedete che questa parte non dipende da y e quindi sarà un coefficiente premoltiplicativo ni u x poi abbiamo la derivata rispetto a y di f e questa sarà una funzione composta perché la f dipende da y attraverso eta e eta ha questa espressione e quindi sarà derivata di f rispetto a eta che la scriveremo come f primo per la derivata di eta rispetto a y ora siccome eta è una funzione lineare in y avremo soltanto il termine radice di u diviso ni per x ora ni e ni lo possiamo semplificare x e x lo possiamo semplificare radice di u e radice di u si moltiplinano diventano u e quindi la u diventa semplicemente u grande per f primo e quindi abbiamo trovato la prima componente di velocità ora dobbiamo trovare la componente v solo per semplicità permettetemi di scrivere meno v uguale a dpsi in dx adesso questa è un po' più complicata perché la psi dipende dalla x per due funzioni per questa e attraverso la eta che come vedete dipende da x e quindi qua dobbiamo essere un po' pazienti e un po' attenti quindi innanzitutto cominciamo abbiamo la prima la f non derivata e quindi la scriviamo direttamente così per questa derivata ora ni e u non partecipano alla derivata abbiamo la derivata della radice di x che è 1 su 2 radice di x e quindi viene f mezzi per la radice di ni u diviso x ora ora però dobbiamo fare l'altra derivata e quindi abbiamo traccio una linea per non confonderci con il resto quindi adesso abbiamo questo fattore per il momento non metto segni così poi vediamo ciò che otterremo ni u x per la derivata di f fatta rispetto a x e quindi più avremo la derivata di f fatta rispetto a eta e quindi di nuovo ci sarà f' per d eta in dx ora eta ha questa espressione quindi ci sarà y per la radice di u diviso ni e quindi adesso devo fare la derivata rispetto a x di 1 su radice di x e quindi viene innanzitutto un meno poi viene una x a denominatore poi viene un fattore 2 e poi abbiamo una radice di x che posso mettere qui speriamo di non aver fatto errori vediamo un po' anche qui possiamo fare qualche semplificazione e quindi alla fine vediamo un po' che cosa otteniamo guardate forse qua una cosa che ci conviene fare è riottenere eta e possiamo farlo perché semplificando questa x e questa radice di x riotteniamo una radice di x a denominatore qui ce ne abbiamo un'altra e quindi riorganizzando un po' di termini abbiamo un mezzo che possiamo mettere a fattore comune poi abbiamo radice di ni u fratto x che moltiplica f meno eta f' prima insomma ho riorganizzato un po' i termini in modo da riottenere da questo miscuglio di variabili un'altra volta la eta ma ci dovrebbe essere bene adesso quindi che cosa dobbiamo fare abbiamo trovato la u abbiamo trovato ricordiamoci che questa è meno v non è la v e quindi adesso la dobbiamo mettere qua dentro e qui adesso cominciamo provo a fare passaggi un po' alla volta quindi abbiamo u che sarà u grande per f' ora abbiamo du in dx e quindi devo fare la derivata rispetto a x di questa funzione ora la u di nuovo c'è e non partecipa mettiamo qui ora devo fare la derivata rispetto ad x di f' e quindi sarà di nuovo la derivata di f rispetto a eta e quindi sarà f' stavolta e poi devo fare la derivata di eta rispetto a x ormai l'abbiamo fatta una volta abbiamo imparato e quindi se facciamo un po' di passaggi viene meno un mezzo eta su x esattamente quello che abbiamo fatto prima per farcelo venire bene poi abbiamo più v du in dy e quindi qua siccome qui abbiamo meno v adesso devo prendere questa quantità e cambiare segno quindi posso semplicemente invertire questi due termini all'interno e quindi abbiamo più un mezzo radice di ni u fratto x per eta f' meno f e questa è semplicemente la v ora devo fare du in dy la u è questa e quindi abbiamo di nuovo un'altra u grande poi la derivata rispetto a y di f' e quindi avremo f' secondo per d eta in dy ma eta ha questa espressione derivata rispetto a y ci sarà la radice di u diviso eta x tutto sotto la 10 bene siamo arrivati qui oppure se volete qui visto che stiamo guardando questa questo sarà uguale questo sarà uguale a u grande du su dx e poi abbiamo più ni derivata seconda di u rispetto ad y quadro ora d u in dy era questa già l'avevamo fatta dobbiamo fare un'altra derivata rispetto ad y e quindi avremo una u che già c'era poi era una derivata seconda diventerà una derivata terza e poi avremo questo termine e ce ne sarà un altro e quindi semplicemente tolgo la radice quadrata bene anche qui traccio una riga per distinguere da quello che c'è sopra ecco qua bene siamo arrivati a questo punto adesso magari qualche passaggio possiamo risparmiarcelo guardate qui che cosa abbiamo abbiamo un fattore un mezzo e qui c'è il fattore un mezzo poi qui abbiamo u per u u al quadrato f primo f secondo eta su x con un segno meno adesso se noi questi qua li moltiplichiamo il primo e l'ultimo vedete abbiamo radice di ni e radice di ni che si semplificano radice di u radice di u si moltificano con questa u fa u al quadrato e torna questo u al quadrato il fattore un mezzo è qui radice di x per radice di x diventa x ed è questo eta qui c'è f primo f secondo questo con un segno più e questo con un segno meno quindi ci crediate o no questo termine si cancella con quest'altro termine adesso ci rimane quindi a primo membro soltanto questo quindi sarà un mezzo f f f secondo poi abbiamo radice di u per radice di u che fa u al quadrato radice di ni e radice di ni si semplificano e poi abbiamo radice di x e radice di x che invece rimangono quindi a primo membro abbiamo facciamo un passaggio ulteriore faremo un segno meno un mezzo u quadro diviso x f per f secondo a secondo membro abbiamo u di u in di x lo scrivo u derivata di u fatta rispetto ad x e poi ci rimane no scusate qui c'è anche no questo qui l'ho cancellato bene qui abbiamo un ni e un altro ni che si semplificano e quindi abbiamo u quadro diviso x f terzo quindi vediamo che siamo riusciti a semplificare notevolmente l'equazione sebbene ancora non sia semplicissima a questo punto ci viene richiesto l'ultimo sforzo di semplificazione che è il seguente immaginiamo che d u in di x sia zero d u grande rispetto a x sia uguale a zero guardate bene questa qua è un'ipotesi questa qua non è una nessuna legge fisica peraltro un'ipotesi anche molto forte perché se adesso andiamo al ritroso cosa significa che d u in di x sia zero vuol dire vuol dire che qua deve essere m uguale a zero cioè la velocità esterna deve essere costante allora se questo è vero se la velocità esterna è costante questa equazione non avrà più questo termine centrale il che vuol dire che il termine u quadro diviso x si semplifica e questa equazione diventa molto più semplice perché se questo è vero quindi questa qua è un'ipotesi se questo è vero allora l'equazione diventa f terzo più un mezzo f f secondo uguale a zero questa prende il nome di equazione di blasius blasius era uno studente di prantel è stato colui che ha derivato una delle prime soluzioni per il flusso di strato limite date bene non soluzioni analitiche perché blasius alla fine è arrivato a questa equazione ora questa è incomparabilmente più semplice rispetto a tutte quelle che abbiamo visto finora principalmente perché se andiamo a ricercare tra tutte le cose che abbiamo scritto su questo foglio scopriamo che questa equazione coinvolge soltanto f di eta e f di eta è vero che ha la variabile eta che contempla sia la x che la y ma ce l'ha in forma combinata quindi questa è un'equazione differenziale ordinaria non è un'equazione differenziale alle derivate parziali una volta che si riuscisse a risolvere questa equazione si trova f di eta e quindi dato un x e una y si calcola eta si conosce la funzione e da lì si risale alla soluzione all'interno dello strato limite ora la cattiva notizia è che né blasius né nessuno dopo di lui hanno mai trovato una soluzione analitica di questa equazione però la buona notizia è che o per via numerica o per via asintotica questa equazione si riesce a risolvere non facilmente ma non è nemmeno un'impresa impossibile non mi dilungherò sulle varie metodologie per risolvere questa equazione però facciamo qualche considerazione beh innanzitutto questa è un'equazione differenziale ordinaria del terzo ordine quindi ha bisogno di tre condizioni per essere integrata quali sono queste condizioni beh queste non possono che essere le condizioni che derivano dal problema fisico quindi siccome una prima condizione è che la velocità u deve essere uguale a zero per y uguale a zero cioè la velocità deve essere zero a parete se noi torniamo indietro e andiamo a vedere com'è fatta la u è questa abbiamo che la velocità u è u grande per f primo quindi il fatto che la u debba essere zero per y uguale a zero vuol dire che f primo deve essere zero quando y vale zero ma la f primo dipende da eta quindi andiamo a rivedere com'è fatta la eta e scopriamo che per y uguale a zero anche eta è uguale a zero quindi questa condizione ci dice che f primo di zero cioè per eta uguale a zero deve essere zero a parete deve essere zero non soltanto la velocità u ma anche la velocità v quindi v deve essere uguale a zero quando y è uguale a zero andiamo a vedere com'è fatta la v beh qui abbiamo meno v ma tanto v o meno v devono essere entrambe zero e alla fine scopriamo che per y uguale a zero già sappiamo che eta è uguale a zero e f primo deve essere già zero l'abbiamo appena visto e quindi deve essere zero anche questo secondo termine quindi l'altra condizione è che risulti uguale a zero la funzione stessa di eta e l'ultima la terza condizione qual è quando ci troviamo fuori dello strato limite quindi per eta che tende all'infinito la velocità u piccolo deve essere uguale a u quindi u deve essere uguale scusate u piccolo deve essere uguale a u grande per y maggiore di delta ora da qui abbiamo che fuori dello strato limite f primo deve essere uno e quindi abbiamo che f primo di eta deve tendere a uno per eta che tende all'infinito cioè fuori dello strato limite allora con queste considerazioni è possibile risolvere l'equazione diciamo prevalentemente è possibile risolverla per via numerica e una volta risolta si può ottenere la soluzione sotto forma di tabella quindi per esempio si può avere una tabella in cui c'è eta in cui c'è f f primo e f secondo e chiaramente all'inizio apparete quando eta vale 0 f deve valere 0 f primo deve valere 0 mentre f secondo avrà un valore che è 0,332 dopodiché i valori cominciano a crescere ora di questi io ne riporto soltanto alcuni gli altri potete trovarli su delle tabelle per esempio quando eta è uguale a 5 uno dei valori importanti è che f primo vale 0,991 e degli altri non ci interessa invece man mano che si cresce viene fuori che ne metto uno giusto per riferimento ma in realtà ci interesserà soltanto la differenza per esempio quando eta vale 8 abbiamo che f vale 6,729 f primo è circa uguale a 1 sappiamo che tende a 1 e f secondo invece circa uguale a 0 ora perché ci interessano questi valori perché se noi abbiamo tabellati tutti i valori per eta f f primo ed f secondo possiamo finalmente calcolare alcune delle quantità che avevamo definito all'inizio lo spessore di spostamento lo spessore di quantità di moto allora lo spessore di spostamento per esempio magari nel primo ci dedico un attimo in più poi gli altri potete farli voi come esercizio lo spessore di quantità di moto scusate lo spessore di spostamento sarà l'integrale tra 0 e l'infinito di 1 meno u piccolo su u grande in dy facciamolo u piccolo su u grande in dy ma u piccolo diviso u grande sarà f primo e quindi questo integrale lo posso scrivere come l'integrale di 1 meno f primo ora però ricordiamoci che la f dipende da eta quindi dy sarà pari a d eta e questa la dobbiamo moltiplicare per questo fattore all'inverso quindi per la radice quadrata di ni x fratto u bene ora questo integrale tra 0 e l'infinito sarà pari quindi a radice di ni x diviso u poi abbiamo l'integrale di 1 che vale eta l'integrale di f primo vale f tra 0 e l'infinito ora vedete questa tabellina diciamo l'ho compilata un po' ad arte a 0 sia eta che f valgono 0 quindi qua apriamo 0 meno 0 cioè questo estremo di integrazione non contribuisce invece l'infinito è cruciale sapere che cosa fanno sia eta sia la funzione in realtà questa differenza tende a un valore costante che è circa 1 1,72 e quindi questo integrale vale circa 1,72 per la radice di ni x fratto u l'altra cosa che possiamo fare è calcolare lo spessore di quantità di moto ora qui non vi rifaccio i conti però mettendo qua dentro le quantità ed integrando viene fuori che questo è uguale a 0,664 sempre per la radice di ni x fratto u l'altra cosa che si può fare è calcolare per esempio lo sforzo viscoso a parete lo sforzo viscoso a parete è uguale a mu per la derivata di u fatta rispetto a y calcolata per y uguale a 0 ora la derivata di u fatta rispetto a y si tramuterà in una derivata di f fatta rispetto a eta per d eta in dy e a conti fatti sapendo che la derivata seconda di f calcolata per eta uguale a 0 vale 0,332 dopo un po' di passaggi si ottiene questo fattore 0,332 per la radice quadrata di ρ mu u al cubo diviso x ora perché sono importanti queste relazioni beh tanto per cominciare perché le soluzioni analitiche in fluidodinamica sono rarissime spesso sono ottenute in condizioni così semplificate che sono di scarsa utilità viceversa questa è una soluzione di notevole utilità perché questa ci dà un campo bidimensionale forse non so se è chiaro ma una volta nota la f di eta attraverso questa ricostruzione è possibile calcolare il campo bidimensionale di velocità u e v e quindi è possibile calcolare l'integrale delle forze l'altra questione notevolmente importante è che ci permette di capire come variano le grandezze all'interno dello strato limite ora qui non l'abbiamo visto nel dettaglio ma se avessimo visto che cosa fa questa f primo di eta per nell'intorno di eta uguale 0 si vede che questa all'inizio cresce linearmente il che vuol dire che lo sforzo viscoso a parete all'inizio è uno strato diciamo è contenuto di uno strato di fluido all'interno del quale è costante questo ha delle implicazioni poi per la teoria della turbolenza l'altra questione e poi con questo concludiamo è questo valore il valore di eta per cui f primo vale 0,99 essenzialmente perché ho scelto di rappresentare questo valore proprio perché una delle definizioni che abbiamo dato come spessore di strato limite è la distanza dalla parete a cui la velocità è il 99% della velocità indisturbata allora come vedete questo accade quando eta vale 5 il che vuol dire che se ci ancoriamo alla definizione di spessore di strato limite come proprio quella distanza quel 99% allora a questo punto abbiamo che possiamo indicare delta di x come circa uguale a 5 volte questa lunghezza di x diviso u chiaramente questa qui è una definizione soggettiva chiamiamola per esempio delta 99 per ricordarcelo mentre delta asterisco che come vedete vale circa un terzo rispetto allo spessore di strato limite questa non non ha in sé nessuna nessuna scelta soggettiva bene con questo concludiamo forse un'ultima cosa vi ricordo che questa soluzione che abbiamo ottenuto che è la soluzione dell'equazione di blasius ha come richiesta fondamentale che risulti d o in d x 0 ora se ricordate che d o in d x non è altro che il gradiente di pressione abbiamo trovato una soluzione nel caso in cui ci sia uno strato limite con gradiente esterno di pressione nullo è possibile trovare anche soluzioni nel caso in cui questo gradiente esterno di pressione non sia nullo ripeto purché la velocità segua questa legge di potenza si giunge però un'equazione molto più complicata che si chiama equazione di Faulkner-Scan la cui soluzione richiede moltissimi passaggi matematici e sicuramente questioni più complicate che non vale la pena di affrontare a questo livello del corso bene con questo direi che possiamo concludere la lezione e ci vediamo alla prossima per la prossima Grazie a tutti.